Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aumentare la nitidezza sui giochi ovviamente non solo su Apex Legends però alcuni giochi non supportano questo filtro con GeForce Experience per scaricare questo programma ovviamente ti ho lasciato in descrizione il link che ti porterà su questa pagina tu lo scarichi e lo installi una volta fatto tu una volta installato tu non ti resta che aprire facendo schiacciando Alt più Z ti aprirà così il pannello di GeForce Experience e attraverso il filtro giochi potrai aumentare la nitidezza sul gioco quindi in questo caso se esce in alto a destra questo simbolo vuol dire che sta riprendendo così il gioco lo riprende, riprende così l'interfaccia del gioco e potrai fare quello che vuoi potresti anche salvare le clip della partita quindi ha salvato gli ultimi due minuti se c'è quel simbolo in alto a destra quindi in questo caso premi Alt più Z andiamo su filtro giochi premi su 1 vai su aggiungi filtro scendi fino a giù fino a trovare nitidezza e aumentiamo l'intensità della nitidezza una volta fatto aggiungi filtro nitidezza più intensità 100% scendiamo fino a giù ed ecco la nitidezza del gioco che è aumentata ok è aumentata vediamo è perfetta sì quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare la nitidezza su qualsiasi gioco ovviamente è la stessa cosa tu premi Alt più Z e da lì in poi farai filtro giochi metti il filtro puoi mettere quello che vuoi non solo la nitidezza puoi mettere tantissimi filtri quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao